Molto raffigurativo il commento del preside del Nolfi, Samuele Giombi, questa mattina davanti all'entrata della scuola. Sembra di essere terremotati. Anche lui oggi, come studenti, docenti e operatori scolastici, questa mattina è frastornato, ma anche coinvolto nella febbrile opera di rimettere in moto una macchina che ha subito un improvviso ed inaspettato stop di arresto, a meno di una settimana dalla prima campanella. Questa mattina nei corridoi del piano terra un deciso via vai di personale amministrativo e docente per traslocare in locali più sicuri anche le cose necessarie per affrontare, pur nel disagio, questa dura ed impegnativa prova. A questo punto però bisogna rimboccarsi le maniche. Non è il momento delle polemiche, questo è il momento della collaborazione e del lavoro. La collaborazione c'è, io vedo anche i tecnici delle province, del comune, vedo in loro una sincera collaborazione. Quindi ci vedremo anche oggi pomeriggio e dobbiamo assolutamente garantire il diritto allo studio dei nostri studenti. Con loro, ma anche con il comune di Fano ci stiamo vedendo in queste ore per fare una mappatura a tappeto puntuale di tutte le risorse possibili sul territorio di Fano, nella città di Fano, ecco meglio. Con quale soluzione concreta? Ecco, io ho già detto e dirò ancora anche nell'incontro tra oggi e domani mattina che occorre assolutamente in primis lavorare per trovare soluzioni in orario antemeridiano perché l'ipotesi diciamo pomeridiana è un'ipotesi che metterebbe in gravissime difficoltà molte famiglie e quindi per me resta l'extrema razio. Ecco, quanti sono gli studenti coinvolti in questo? Sono circa un migliaio. Ci vuole pazienza. Ecco, siamo in grave difficoltà ma nelle difficoltà si può reagire con rancore o con la collera, con la stizza, con la demoralizzazione o con il rimboccarsi le maniche, con un supplemento di impegno. Questa seconda è la strada che stiamo percorrendo. Ma la parte che verrà demolita è solo quella dell'ex Carducci mentre l'altro edificio adiacente dove sono ospitati 400 ragazzi subirà interventi di ripristino. Questo corpo tornerà, dicono i tecnici provinciali, proprietari dei locali e committenti dei lavori tornerà fruibile per la scuola dopo Natale, quindi a gennaio. Quindi da gennaio un numero X di studenti di classi del liceo Nolfi, a Polloni potrà tornare a occupare questo spazio.